salve a tutti ragazzi bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video continuiamo con expedition ed è un po che non lo porto sul canale allora abbiamo iniziato a farci un bel po di missioni su carpazzi e volevo vedere se ne abbiamo sbloccate qualcun altro ora abbiamo sempre arizona che è una delle mappe che avevamo già sbloccato all'inizio infatti ci faceva sceglie tra carpazzi e arizona per arizona non è che mi piace moltissimo come come bioma vediamo un po se abbiamo qualcosa su torrente canab che insomma è uno di quelli eventualmente nuovi allora abbiamo squadra di ricerca quindi volendo potremmo fare qualcosa qui allora dice dopo un recente terremoto una squadra di ricerca è scomparsa dalle regioni e si sono persi i contatti con loro usa le coordinate fornite per espollare le ultime posizioni note dai ricercatori e trovarli ok difficoltà difficile quindi qui ci sarà da da impegnarsi 2200 chilometri requisiti un martinetto e un gancio ok terreno differenze d'altezza oggetti costruzioni ponte va bene quindi vuol dire che dobbiamo portarci anche le varie risorse appunto gli strumenti per poterlo costruire allora come veicolo vediamo un attimo magari ci servirebbe qualcosa di di agile il problema è che sarei tentato in verità per la gippetta però visto che dobbiamo portarci dietro un bel po di cose il camion è senza dubbio quello migliore visto che ci dà la possibilità di caricare più cose e quindi penso che sceglierò appunto il camion quindi come inventare abbiamo i requisiti un gancio e c'è un martinetto e un gancio però ne porto due di ognuno ci portiamo anche il carburante che non si sa mai i ricambi assolutamente e la ruota che non abbiamo spazio quindi va bene pure così ok allora direi che abbiamo fatto tutto abbiamo preso il camion e ci possiamo schierare nell'unico punto in cui possiamo effettivamente iniziare la missione visto che la dobbiamo ancora vedere allora vediamo un attimino la zona ci dice che dobbiamo arrivare qui perfetto allora attenzione qua allora no questa mi dice che cacchio boh vabbè allora iniziamo cerchiamo di capire allora che orario si è fatto alle 4 e mezza magari andiamo per le 7 che così non ci abbiamo grossi problemi allora allora vabbè io per il momento seguo quella che potrebbe essere una strada poi vediamo effettivamente com'è la situazione questa che comunque dobbiamo andare là insomma non è che ci è morto per il momento da inventarsi più piano più piano più più ok occhio qua che c'è già da fanghia e non mi piace e forse sarei potuto passare per sopra aspetta un po' vediamo se riusciamo eh oddio arrampicasse la vedo difficile vediamo un po' senza qualche appiglio la vero difficile salita qua allora aspettate prima di tutto andiamo a sgonfiarci un po' le ruote per avere un maggiore appiglio eh però così se cappotta me basta infatti questa è questo il risultato allora primo martinetto però posso eventualmente sfruttarlo per mettere qua sopra già ok un po' in bilico cerchiamo di non finì dai cazzarola di sotto eh e ora che uombero che non so altro ma non posso né scendere né salire cioè scende sì a salire però no mi sarebbe servito salire mannaggia e vabbè andiamo giù dai abbiamo realizzato un martinetto così a caso vabbè buttamose una fanghiglia e allora le pressioni le rimettiamo normali mettiamo a testa più sopra qui possibile così vediamo il centro vai 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 vabbè pensavo peggio in verità pensavo peggio ho fatto più cacciara e ho consumato un martinetto così inutilmente quando avrei potuto passare come ho fatto adesso senza grossi problemi in verità vabbè allora andiamo qua allora vediamo di salire qua ok dai per il momento sta andando tutto abbastanza bene si sta comportando direi egregiamente il nostro cosa qui c'è già un ponte fatto è che ci siamo già nati in mezzo scordato no non mi pare in verità boh vabbè allora se ci fossimo già andati magari la mission l'avrei conclusa invece non era conclusa quindi boh vabbè allora vediamo un attimo allora il punto dove dobbiamo andare è addirittura guarda che cazzo se siamo incastrati qua e addirittura ha sopra elevato ma tocca capire come arrivarci qua sopra e questo può essere un problema allora come punti qua sembra esserci una salita che qua eh non vorrei che magari dobbiamo andarci a scoprire la parte qui per poi piano piano salire e andare da quest'altra parte qua pure sembra esserci un punto per salire il problema è che dovevo cercare di salire tipo qua queste ne sono tutte su tutte rocce più che altro capito che se sono portati i ganci però vabbè intanto andiamo a vedere com'è la situazione muovete qua se roviniamo le le gomme non me le so portare dietro allora vediamo un attimo qui c'è anche della una palude insomma un ruscello vediamo se riusciamo ad andare dall'altro lato magari ecco se siamo buttati de faccia praticamente e non mi sembra che fosse la soluzione migliore però ce la stiamo forse facendo forse dai 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 che manca poco ok allora questa è quella una dei delle parti che sembra poterci far salire il problema è che qua essendo la mappa non esplorata non ho idea di come sia la situazione non so perché mi da queste cose che lampeggiano come se fossero da preme vabbè allora però noi abbiamo un attimo il drone vediamo un po' se dall'alto riusciamo ad esplorare un po' più la zona e avere un po' le idee più chiare allora noi dobbiamo arrivare là sopra l'unico punto per arrivarci se stiamo sul piano qua in basso sembra essere sto pezzo qua ok se ho paura che una volta arrivato in là ci incastriamo altrimenti proseguendo qui in avanti punti per salire oddio lì sopra vabbè stavo per indicarlo cordito però sopra il triangolino dove mi dice segnale scarso sembra esserci una parte dove ci si può salire magari con più facilità rimanere su questo diciamo secondo livello e poi salire eventualmente qua e poi che dio ce la mandi buona sì secondo me potrebbe essere un'ottima idea potrebbe essere un'ottima idea quindi c'è da arrivare qua qua c'è anche un punto ah c'è sto delle forniture ottimo bisogna arrivare fin qua allora se la famo cost to cost no a quanto pare no che se siamo blocchiati stavano incastrati occhio 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 dio dio guarda ma che cazzo stavo ok allora qui c'è la rubaccia guarda che cazzaro la stava fa dai ok eeeh andiamo da qua a parte che mi sa che qui l'acqua è molto ah no è verde quindi ci possiamo andare mi sembrava abbastanza profonda attaccamosi con il vericello ok mi sa che sto torrente sarà complicato da superare guarda quanto è bello cacchiato niente dovrei utilizzare dei ganci a parte vedi la corrente che piene piene non ci porta via dai mennagero me l'ha fatta chiare dai 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 fammi tornare indietro dovrei salire là sopra forse vediamo se riusciamo ad andare dall'altro lodo dai cazzo siamo incastrati da un arbero dannazione dai buono che siamo attaccati su quello oh piano però se cappottamo se cappottamo dai vai faccio le gomme mi ha rimesso un filo più basse ci abbiamo più appigliosi di rocce dai dai che gli manca poco dannazione e niente guarda te non riesce non riesce a superare sto pezzo ok così che era difficile ma è bella complicata sta missione allora diciamo che il fiume non è proprio il top il problema è che pure qua non mi sembra proprio la soluzione migliore per arrivarci di là aspetta riproviamo sul fiume magari noi che abbiamo passato questo pezzo con il fango vedi riusciamo a passare tra un pezzo di roccia e l'altro non ci abbiamo grossi problemi ok ho scoperto guado ok io in verità dovrei andare dall'altro lato però intanto cerchiamo di trovare riparo ok qua sopra perfetto allora abbiamo visto che c'era un punto dove potesse salire perlomeno sulla carta ok qua ok perfetto qui si sembra essere morto più facile la salita allora abbiamo scoperto fornitura commerciamo con erottamente sti chiacchi materiali ricicabili come prezzi di auto estime si possono smantellare in officina per cavarne delle parti manco ce l'ho i martinetti ne ho utilizzato uno solo però questi sono da cinque buono posso scambiammi questo qua ok se portiamo la benzina cioè riforniamo che qua la vedo difficile di cambi non le abbiamo usate ah le ruote si sono portate ok mi ricordavo mi ricordavo sinceramente però vabbè quindi abbiamo uno da due uno da cinque ottimo e portiamo sempre questo da due intanto abbiamo uno spazio allora qui sembra essere un po' più easy la questione per salire ci andiamo a sgonfiar un po' le ruote dovrei ok dai 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 perfetto ok qui com'è la situazione sembra tranquilla sembra un letto di un fiume prosciugato qua ok quindi andiamo qua sopra poi andiamo su piano eh no magari sta pietra così enorme è un po' difficile da sistemare ok lunga sta mission cime poi come ho sempre detto col fatto che diversamente a snowrunner dove comunque le strade c'erano era solo da da diciamo da da attraversarli e qui c'è proprio da scoprirle le strade e non è sempre easy non è assolutamente facile occhio occhio no così no così e beh che cazzo dai dannazione aspetta però il motore è ancora acceso posso posso attaccare da qualche parte no da là dai che sfiglia vediamo poi se riuscirà a tirarme e rimettemi dritto no non 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 mi gira è il volante e niente vabbè utilizziamo un martinetto così e vediamo per utilizzare benzina non me lo fa fa aspetta perché per lui non so ancora spacciato diciamo ovviamente se mi tiro così mi cappotto ok ora no sono ritornato così e niente devo utilizzare un gancio devo utilizzare un gancio per tirarmi dritto e vabbè questa là è musata così devo essere più calmo questo insomma lo riconosco che è un mio difetto devo cercare di pianificare le cose con più calma perché magari si evitano pure dei fasti errori così assurdi e da sciocchi ok comunque ritendo e sterminando siamo riusciti ad arrivare qui sicuramente non sarà l'unico posto che dovremmo raggiungere chissà questi no caspita sono finiti ok eh vedi che si prosegue più avanti ok secondo Italia sono passati da questo punto avvicino al canino e indaghiamo ok si sembra che c'è anche una sorta di di punto ok quindi tocca riscendere sotto praticamente ok ora quasi quasi mi butterei tipo di sotto così tanto alle brutte ci possiamo recuperare quei martinetti però magari cerchiamo riuscendo in maniera umana ok quindi devo andare dall'altra parte ora ho fatto tanto per arrivare qua ok ma noi sta cosa la stiamo a vive diciamo in terza persona ma mettese in prima è praticamente una cosa assurda come che aspira fai peccato non c'è il supporto chi è non c'è il supporto per il VR se no per i deboli di stomaco non è proprio il top rimettiamo se fuori e se no allora scende siamo sempre scesi molto molto facilmente ma qua se tuffiamo di sotto casciamo un po' da punta ecco tipo così no ci siamo proprio ribaltati pensavo fosse così alto oh aspetta che per poco si rimettevamo a detti pensavo fosse un filino più più basso però vabbè dai non li volevo utilizzare i martinetti a fine dei conti l'hiamo utilizzato uguale che non me lo fai posizionare au au che per di niente da poter utilizzare ciò sa perché allora abbiamo detto dobbiamo andare là sopra quindi c'è da tornare qui bisogna ripassare per l'isolotto lì quello che abbiamo fatto prima e andare dall'altra parte però aspetta che voglio riutilizzare a parte rimettiamo bene le gomme voglio riutilizzare lo stesso punto di prima vista che ci siamo già passati e sappiamo che non ci sono grossi problemi e che caspita ok ok dai allora andiamo su e dobbiamo andare qui a destra la tampa sì direi di sì sono le tracce là quindi sì cercate di capire come se ok scordo sempre come si accendono le luci incredibile occhio occhio piano ok ecco diciamo la le tracce che abbiamo visto ah ma già sta qui il punto pensavo fosse più lontano in verità ammesso che sia l'ultimo eh ok ah no cacchio raggiungi il punto il primo punto questo è il primo il secondo sta laggiù allora poi sempre pianificiamo bene allora c'è da scendere qua e poi onestamente forse qua si sale e poi qua ci sono già le tracce quindi forse ok oh oggi ricardo dalle tracce sono dirette a nord ok ma se io gli sto cercando se poi ti fermasse scusatemi eh loro vanno proseguendo avanti io gli stassi qui indietro se fermassero un attimo e se raggiungiamo eh occhio occhio a parte che orario si è fatto è 14 aspettate velocizio un po' tempo ok così ci si vede un po' di più allora vabbè già siamo qua pensavo fossi più lontano che è una miniera questo bunker che cacchio è bunker che cacchio è che aspira è stata a naper anche qua che caspita ok un aiutino sempre del vericialo non ci vuole allora dobbiamo salire qua sopra piano che questa cosa appena prende per via poi se ferma più butta giù tutto e facciamo solo danni allora questo è l'altro punto unica pianta in mezzo l'abbiamo presa noi ok voi sono nati da qua esplora l'aria le talce pneumatici sono sempre più numerose potresti utilizzare un drone per ispezione all'aria mi hai letto nel pensiero ferma qua spegni pure il motore i dispositivi droni allora ando che aspira sono nati a finì non c'è di niente però oh questo c'è una tenda però oh questi sono accampati qua però 82% 84 88% spero di non dovremmi avvicinare ancora di più 92% mi sa che questa parte l'abbiamo già scoperta come vedete un attimo devo scoprire sto pezzo qua e sta parte qui allora un'altra volta il drone andiamo verso destra sta parte scusate c'è ancora degli strascichi di tosse non mi ha dato non mi ha dato percentuali però l'ho scoperta mi manca questo più quel pezzo qua davanti qua dove stanno l'arberi ok 96 99 a posto e quindi questa che è non lo so sì in zona di ricognizione raggiungi il campo scoperto vabbè quello che avevamo visto qua sopra quindi per farlo dobbiamo andare qua qua e si arrampicamo sopra sì da qua pure si può salire ma mi sembra un po' più lunga la questione quindi si scende allora intanto scendiamo magari non buttamosere sotto come abbiamo fatto prima scendiamo in maniera umana ok guardate ok ok va bene il campo che abbiamo visto prima che tendi sacchi a pelo ecc insomma lo avevamo già addocchiato col drone bene ma che sembra anche a motion una volta che prender via sto sto coso allora vediamo se riusciamo qua se no c'è da far giro lungo eh fortuna siamo strettini eccoci qua tiè ma come sono apparecchiati bene questi andiamo a posto uh spizia completa da 26.400 dollari apposto avanzato lo abbiamo scoperto riceviamo i piedi ovviamente i vari oggetti martinetti che non abbiamo utilizzato ce li rimborsano va benissimo e a posto vediamo se c'è una sbloccata un'altra oppure se era solo quella no ci ha sbloccato ah già abbiamo l'esplorazione libera senza manco dove aspettare troppo e abbiamo recupero il team scomparso quindi è il proseguo di quella precedente quindi partiremo penso da dove abbiamo trovato il campo base per poi eventualmente proseguire quindi abbiamo sbloccato modalità libera vabbè questo lo sappiamo e anche questa difficoltà difficile tutto difficile estremo addirittura minchia quattro punti praticamente dai parti opposte della mappa qua ci sarà da camminare e non poco anche questo estremo normale normale difficile insomma vabbè questa l'abbiamo già fatta però insomma ce ne sono alcune molto molto toste va bene questo eventualmente lo vediamo nel prossimo appuntamento siamo andati un po' lunghini ma ci tenevo ovviamente a finirla magari in un'unica soluzione di video come sempre vi ringrazio della visione se vi va ragazzi lasciatemi un mi piace un commentino e soprattutto iscrivetevi al canale per voi e gratis a me date veramente una grassa mano di nuovo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao